Coach, una vittoria importante su un campo decisamente difficile come quello di Cuneo. Cosa le è più piaciuto della sua squadra questa sera? Sicuramente la reazione dopo la partita di Firenze, il fatto che abbia visto un gruppo molto coeso che è restato calmo anche nei momenti un po' più difficili dove abbiamo avuto qualche attimo di impasse. E' una cosa su cui dobbiamo ancora lavorare, abbiamo dei blackout un po' troppo lunghi dove sbagliamo un po' troppo anche quando magari siamo davanti quindi magari non c'è necessità di forzare particolarmente certe situazioni. Credo che sicuramente il muro sia stata una cosa oggi che ha funzionato molto bene. Cinque giornate, tre vittorie, è soddisfatto di questo inizio di stagione? Ma è soddisfatto di come stanno lavorando le ragazze, di come si sta comportando questo gruppo. Chiaro che le vittorie danno serenità per poter continuare a lavorare, questo è sicuro. però non è strettamente legato ai risultati. Credo che questi ragazzi stiano veramente dando tanto, sono un gruppo che sta lavorando molto bene e quindi questo è indipendente dal risultato. Sicuramente vincere e fare nove punti in cinque partite per noi è oro.